Quando si parla di medicina di genere si pensa quasi subito ai farmaci, ma è vero che la maggior parte dei farmaci in passato è stata sperimentata soprattutto sul modello maschile? Sì, è vero, detta così fa anche un po' paura perché sembra in realtà che ad oggi le donne e le persone transgender non possano usare nessun farmaco con un profilo adeguato di sicurezza e di efficacia. Purtroppo non siamo tanto lontani dalla realtà nel momento in cui dico qualcosa di questo tipo perché fino al 1993 nessuna donna, nessun campione di sesso femminile è stato arruolato negli studi di sperimentazione preclinica e clinica dei farmaci. Un farmaco, noi immaginiamo che nasca e cresca sotto i banconi della farmacia, ma in realtà non è così. Un farmaco prima di entrare in commercio deve, ha un lunghissimo iter, una lunga vita precommercio, si comincia con la sperimentazione preclinica che prevede il test del principio attivo della sostanza selezionata sulle culture cellulari e sulle cavi animali, poi si passa ai passaggi che garantiscono la sperimentazione clinica e cioè i volontari e le volontarie sane e poi un numero di pazienti sempre più crescenti. Fino al 1993 nessuna attenzione è stata posta ad un pari arruolamento per sesso per la popolazione maschile e femminile e quindi ciò vuol dire che per tutti i farmaci messi in commercio fino all'inizio degli anni 2000 il vuoto conoscitivo in merito al funzionamento dei farmaci, all'efficacia, al profilo di sicurezza, alla tossicità era pressoché ignoto. Questo perché? Perché la sperimentazione sul modello femminile è molto più complessa e quindi molto più costosa.